Ragazzi di Fitlab, ti hanno rimesso in cesto? In piedi, in piedi Come stai? Come ti senti? Adesso bene, prima dei partiti è sempre bene, ma poi è dopo E invece qui in campo chi è che vedi? Bene un po', ma chi è che vedi peggio anche? Tutti bene stanno, dopo tantissimi anni Certo, il campo è un po' grande, sembra che hanno allargato Aspetta, quando giocavi tu non ti sembro più uguale? No, è più grande Senti, ti volevo chiedere, Di Bala, decisivo con la Roma, la tua 10? La merita? La merita se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma E invece Mourinho, la conference, la finale Europa League, i primi due anni Cosa ne pensi tu? Un grande allenatore, un grande uomo, ha fatto tantissimo Speriamo che possa continuare così E ultima cosa, proviamo a far sognare i tifosi, ritorno tu in società, che ci dici? Non so niente, sto a Ferrara oggi Ma ti piacerebbe? Chi è che non piacerebbe stare dentro la Roma? Grazie